Salve a tutti, io sono Luigi Marino Guzzo, ho presentato un elaborato per la squadra di liberismo 2012. La mia indagine si è soffermata sulla conciliabilità o sull'inconciliabilità tra libertà individuale ed uguaglianza sostanziale e sono partito dall'analizzare i rapporti tra libertà ed uguaglianza prendendo ad esempio il modello della democrazia. Successivamente poi mi sono chiesto però di quale tipo di uguaglianza noi abbiamo bisogno all'interno di una democrazia liberale, cioè all'interno di una democrazia che fa proprio quelli che sono i principi valori di uno stato liberale. Benissimo, ho concluso che questa non può che essere un'uguaglianza formale e quindi noi non abbiamo bisogno di un'uguaglianza sostanziale prendendo soprattutto ad esempio quella che è stata la critica di Hayek rispetto all'uguaglianza sostanziale e quindi noi possiamo concludere che i liberali non sono contro una società di uguali ma semplicemente i liberali sono contro l'impiego dell'uso della forza per dire l'ingerenza del potere statale per creare una società di uguali.